Gli acchiappabollette. Vibra, telefono, luce, gas, tutto in uno. Canone unico. E sei prima quanto paghi, socia quante. Stop! Red, socia quante, no! Fermati a sei prima quanto paghi, perché il canone menzino... È unico e stabilizzato. Chiama subito. 891 3838. Optima, il tutto in uno che semplifica la vita. Se passo ad Optima, lo fai sentire a Red? E basta con ste emergenti. Grazie a tutti.